Questa è una storia di fede, di cooperazione cristiana e mutualità verso gli altri. Vere basi di tutto ciò che vuole diventare grande. Questa è la nostra storia. Oggi come allora, gli stessi valori rendono i soci, le famiglie e le aziende parte della nostra banca. Banca di credito cooperativo di Vignole della Montagna Pistoiese. Una bella storia scritta insieme. Grazie.